ragazzi eccoci qua al campetto libero george floyd faccio fare una piccola panoramica di tutto quello che c'è al campetto insomma tutta la storcizia a cominciare dalle ruole e poi tutta insomma intorno al al campo mentre le persone appunto giocano i ragazzi giocano ovviamente questo è tutto quello che si trova tutte bottiglie di plastica portate sicuramente da tutti i ragazzi che vengono qua a giocare e poi chiaramente abbandonate all'interno del campo per mancanza appunto di cestini dove raccogliere tutti questi rifiuti guardate qua tutto quello che c'è chiaramente il tutto dipende sempre dall'inciviltà del cittadino perché ovviamente potrebbe portare la sua bottiglia di plastica a portarsela a casa dopo aver finito di giocare ma ovviamente se ci fossero i cestini all'interno o comunque all'esterno del campetto tutto questo ovviamente guardate qua non accadrebbe chiaramente le persone ci ci provano a magari prendere un sacco metterci le bottiglie dentro però non basterebbero davvero credo una decina di sacchi per tutto quello che c'è qua intorno e poi ovviamente anche tutte quante le erbacce che infestano tutto il campo guardate un po' qua quello che c'è è quello in cui interverremo il 26 agosto per l'evento che ci sarà da 18 e 30 in poi al campetto quindi venite tutti quanti più siamo prima facciamo e magari poi alla fine potremmo fare anche una partitella di basket ciao a tutti